Dopo la nomina dell'ex sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, a nuovo direttore sanitario facente funzioni dell'Asri di Teramo, ha iniziato subito il suo lavoro partendo dall'organizzazione degli ospedali Covid per assicurare alti standard di assistenza sanitaria. Compito che verrà portato avanti in sinergia con i dirigenti dell'area dell'assistenza territoriale. Brucchi si è detto pronto a impegnare tutta la sua esperienza per affrontare l'emergenza sanitaria in tempo di Covid, mandato che durerà fino a quando la regione non emanerà il nuovo bando per i rinnovi delle nomine. Il compito che abbiamo chiesto a Brucchi, che ci siamo detti, è il compito di lavorare insieme per contrastare in tutti i modi questa ricrudescenza del virus, perché oramai sta assumendo proporzioni importanti per il nostro territorio e quindi dobbiamo mettere in campo tutta l'esperienza, tutte le forze di tutta l'azienda per cercare di, oltre controllarlo, ma anche gestirlo. Ho iniziato una prima ricognizione, sono stato a Dati, dove ho incontrato il sindaco, ho incontrato il direttore sanitario, anche il dottor Marini, adesso l'obiettivo è quello di cercare di mettere a disposizione del territorio più postiletto possibile. Ieri devo dire che a Dati abbiamo fatto un buon lavoro, condiviso, ripeto, sia col sindaco che alla prima autorità sanitaria e anche col direttore sanitario. Poi sono stato a Giulia Nove, anche lì abbiamo incontrato il sindaco Ivan Costantini e anche lì partono già oggi pomeriggio l'apertura di una nuova ala con i primi 15 posti letto, quindi questo ci permette un po' di respirare anche se è solo l'inizio, perché ogni giorno arrivano al pronto soccorso tante persone che hanno bisogno di ricovero e quindi continuiamo con questa attività di recupero di posti letto nei vari ospedali. Per adesso Teramo è già satura, adesso Atri e Giulia Nova, così come l'unità di crisi aveva dato indicazioni. E poi adesso inizieremo anche un lavoro sul territorio, che è molto importante, anche qui ci sarà bisogno dell'aiuto dei medici di base, è fondamentale importante per noi perché loro svolgono un lavoro sul territorio importante e devono essere al nostro fianco. Quindi bisogna lavorare, sono qui per questo, ripeto, il dottor Di Giosia ha voluto anche in base alla conoscenza, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo collaborato in tante altre situazioni e quindi io lo ripagherò con tanto lavoro, tanta serietà e professionalità.